Ok Ha sparato? Si Si, si, ti raccomando E' un po' E' un po' E' un po' Ah, gli ho fatto cenno di lanciare, cioè, gli ho fatto il cenno Yocca, senti che cattiveria Cosa? No! Chi è che gli ha sparato? Senti che ha ucciso qualcuno Ma che infame Avevo appena fatto amicizia Tu, non io, ok? Ok